Ciao a tutti, la Palla Fitness è un attrezzo genico che io adoro perché veramente ti permette di attivare più tipi muscolari e dare tantissimi risultati, se senti subito l'acido lattico che si accumula ricordate che man mano che cominci ad avanzare con l'età è sempre più importante a costruire muscolo per evitare la sarcoponia, per mantenere il metabolismo attivo e per avere tante cose positive dal vostro corpo adesso andiamo a fare uno dei miei esercizi preferiti per i glutei con la nostra Palla Fitness appoggio i propri piedi e mi sollevo, ok vedrai che proprio la palla si donda da destra e sinistra è molto bella perché è instabile, allora questa instabilità va ad attingere e allenare più fibra muscolare continuiamo, spingiamo in su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, adesso stendo le gambe e torno indietro proprio per lavorare la parte posteriore della coscia, ancora 8 e torno indietro 7, 6, 5, 4, 3, 2, ritorno indietro sempre e sollevo 8, 7, 6, 5, lo senti proprio sul gluteo, è bellissimo 4, 3, 2, estendo, 8 e torno 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, scendi giù adesso andiamo a fare un altro esercizio che io adoro, che ci metteremo le gambe leggermente divaricate appoggio la pancia, scivolo in avanti, tenendomi con le mani e chiudi i piedi indietro mi vengo poco poco in avanti perché non è il massimo delle inquadrature e schiaccio in su, porto giù il busto e schiaccio le gambe a rana in su, spingo su le gambe divaricano, scendono in divaricata e quando schiacci i piedi in su sto schiacciando i glutei ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, rimango su, schiaccio i glutei ancora, scendi con le braccia, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, di nuovo giù e su schiacci in su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani su, schiacci i glutei 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani su, schiacci i glutei, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani su, schiacci i glutei, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani su, schiacci i glutei, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani su, schiacci i glutei, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani su, schiacci i glutei, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani su, schiacci i glutei, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani su, schiacci i glutei, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani su, schiacci i glutei, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Due, and relax. Per scendere giù, torni indietro, riprendi contatto con la terra, ok? Sempre, fai sempre i movimenti A, piano con la palla e B, con tanto spazio intorno a te perché la palla, se scivoli, potresti comunque sbattere sullo spigolo di un tavolo o della porta, insomma, stai sempre attento quando lavori con attrezzi instabili perché possono purtroppo farti perdere il tuo equilibrio anche per un attimino che potrebbe non essere il massimo. Ok, scendiamo, adesso rimettiamo i nostri piedi giù, andiamo a fare il ponte con una gamba sola, a questo punto sollevo, ok? È molto molto piccolo, provate di tenere tutto il piede proprio collegato sopra la palla, fitness, continui a spingere, otto, sette, sei, cinque, contrago, 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 ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, tre. Dammi ancora un otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, cambia gamba senza fare abbassare però i fianchi così i fianchi stanno sempre lavorando, due, tre, quattro, continui, cinque, sei, sette, altri due, otto. otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e l'ultimo otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, and relax. Ecco, un altro allenamento dedicato alla palla fitness, dedicato ai vostri glutei con questo allenamento e spero che vi è piaciuto, se vi è piaciuto tantissimo salvate questo video sul vostro personale playlist dedicato ai miei video che vi piacciono di più, condividete se vi è piaciuto questo video e scrivete like, ok? Vi aspetto qua e ricordate se volete farmi delle domande scrivete sotto perché rispondo sempre. Un bacio, ciao!